buongiorno ragazzi come si smonta il volante del rav4 prima cosa devi vedere le direzioni delle ruote e fai un segno sul bollone e sul volante prima di toglierli ok se no qua sopra dove ho fatto io però io il problema è mia una volta smontato il volante volevo cambiarla con questo volante però se guardate bene questo volante qua ho cruise control questo qua che puoi frenare accelerare aumentare l'oxidatore o abbassarla sopra questa volante se guardate bene su questa volante non ce l'ho allora però è già fatto in fabbrica se vuoi montarlo però devi cambiare questa carcassa di plastica smontare questi viti toglierla metterla sopra questa volante e anche da smontare questo guscio perché non serve più e se guardate bene succede può succedere anche a voi perché qua c'è la presa per il cruise control e su questo volante non c'è io ho reso conto quando montata adesso però c'è ancora il tempo da cambiarla non ho problemi questa qua se vedete c'è tutto il comodo comodino qua c'è la leva diciamo qua vado togliere questi viti e montarla e qua c'ero la presa per per taccare questo dispositivo ok è tutto qua non è difficili poi viene montata l'airbag sopra con questi due presi senza rompere niente perché una volta rompi questo questo pulsante giallo non hai proprio fiducia su questi due spini ok e si monta anche questo qua sull'airbag volante e il gioco già fatto e tacchi questo del dispositivo di xylatorial volante diciamo il cruise control invece questo volante che monto adesso non ce l'aveva perché il modello è uscito senza è tutto qua e se guardati su youtube ce l'ho anche il montaggio di questo qua l'ho staccato dalla stessa macchina e l'ho montato sulla mia è anche facile e tutto questo solo per voi così riusciti fare tutto da soli piano piano non è il problema di spenderli o non spendere soldi o andare dall'elettro auto o non andare ma il problema per voi per imparare qualcosina ok tanto qua elettronica vai piano piano e le monte tutto ok grazie a tutti non dimindicati fatti un mi piace sul canale youtube il mio grazie mille